buongiorno a tutti oggi è il venerdì santo chiariamo subito questo non è un giorno triste per noi il giorno in cui ricordiamo la morte in croce di gesù ma noi la viviamo già nella promessa della risurrezione nella sua vita gesù per tre volte ha annunciato ai suoi discepoli quello che sarebbe accaduto durante il cammino in galilea poi in giudea per tre volte ha annunciato ai suoi discepoli che il figlio dell'uomo sarebbe stato catturato rifiutato percosse ucciso ma il terzo giorno sarebbe risuscitato noi che siamo cristiani stiamo davanti alla croce con grande serietà con grande consapevolezza ma consapevoli che la croce è la porta che immette nella vita nuova del risorto certo per noi la croce rimane in tutta la sua gravità e diciamolo anche in tutto il suo orrore una testimonianza grande dell'amore di gesù che non si è sottratto è arrivato fino in fondo mi colpiva in questi giorni che ci sono alcuni aspetti della passione che riguardano da vicino la vita di tante persone che vivono nel nostro tempo e che anche nel corso della storia hanno subito gravi violenze e ingiustizie mi colpiva per esempio lo sottolineava anche il papa mercoledì mattina il fatto che gesù sia stato tradito per denaro in qualche modo sia stato venduto mi colpisce che gesù sia arrivato a condividere la sorte di questa parte dell'umanità che patisce sulla sua pelle questa piaga del traffico umano penso ai tanti uomini che vengono usati nella tratta umana dei migranti penso le tante donne che vengono acquistate per denaro penso tanti bambini vittime delle tratte mi colpisce che gesù nella sua passione croce abbia condiviso la sorte di questi uomini abbia condiviso anche la sorte dei condannati a morte ecco noi tutto questo orrore lo guardiamo non lo scartiamo non lo saltiamo a piedi pari ma riconosciamo in questo dolore in questo orrore in questa ingiustizia che comunque la croce conserva riconosciamo l'amore di dio che in gesù ha voluto venire a condividere la condizione di ogni uomo anche di quelli più scartati anche di quelli che patiscono maggiormente la violenza l'ingiustizia e il rifiuto gesù l'ha assunto su di sé l'ha fatto proprio per poterlo redimere per poterlo riscattare per aiutarci a capire che in ogni situazione in cui l'uomo si viene a trovare lui è lì è presente non ce n'è una in cui lui possa essere riconosciuto assente allora oggi stiamo davvero davanti alla croce c'è un testo dell'antico testamento che dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto ce lo ricorda oggi l'evangelista giovanni nel testo del vangelo che leggiamo nella liturgia oggi davvero dobbiamo tenere davanti agli occhi il segno della croce noi non possiamo ridurlo né ad un soprammobile ad un elemento di arredo appeso lì per caso sui muri delle nostre case e tanto meno possiamo usarlo come un'arma contro qualcuno come un simbolo da usare contro qualcun altro come purtroppo è accaduto e accade nella storia degli uomini noi oggi riprendiamo in mano la croce un invito che ho fatto i bambini lo faccio anche voi grandi toglietela dal muro oggi non potremo venire ad adorare la croce in chiesa ma potete farlo nelle vostre case spero vivamente che in ogni casa ci sia almeno una croce ebbene quella croce oggi toglietela dal muro datele una spolverata magari e tenetela in mezzo a voi poi questa sera nella prima di cena se fatto un momento di preghiera in casa ecco ripetete quel gesto bello del bacio della croce che ci riporta lì a riconoscere la sorgente dell'amore buona giornata del venerdì santo amici ci prepariamo anche con questa giornata di digiuno a vivere l'esperienza della pasqua e quindi